è stato in fin dei conti probabilmente il libro più difficile di tutta la mia lunga carriera diciamo perché per raccontare delle cose c'è bisogno di una distanza e questa distanza essendo che la guerra è ancora in atto non c'era mi stava a cuore non fare il geopolitologo diciamo ma raccontare le storie le storie piccole delle persone le difficoltà le sofferenze le privazioni sotto la guerra e questo era la cosa che per me era più urgente più importante cioè a me non interessano gli scoop non interessano le notizie importanti a me interessano il piccolo particolare che si vede dietro la scena e che magari è rivelatore di una situazione umana particolarmente difficile o sofferente cerco di raccontare queste cose le storie dei villaggi io ricevo quotidianamente un bollettino di guerra familiare di amici parenti persone care persone che ho incontrato in tutte le città dell'ucraina ci ho abitato circa due anni e questo è un bollettino umano non mi parlano di spostamenti di truppe se non quando il piccolo villaggio nella steppa di 350 abitanti viene improvvisamente a essere ulteriormente occupato perché ci sono 500 soldati russi che stanno retrocedendo da kerson in questa specie di ritirata sono incattiviti affamati e terrorizzati loro stessi allora questo racconta molte cose un villaggio di 350 anime che viene sovra popolato era già sotto il controllo dei ceceni ma adesso ci sono i russi che stanno appunto scappando quindi rubano gli abiti ai civili si travestono per hanno paura di essere ammazzati di essere presi scappano per le campagne rubano le biciclette anche quando abbiamo fatto le prove della copertina le prime copertine erano sicuramente efficaci però sembrava appunto un libro di guerra ecco io non voglio fare un libro di guerra il mio è un libro sull'umanità schiacciata dalla guerra e su questa specie di ondata di disumanità il racconto a un certo punto diventa un organismo quasi un organismo vivente chi racconta lo sa bisogna tendere l'orecchio stare allerta cercare di capire e le storie si incastrano una con l'altra la cultura ci salverà la cultura è il vivaio nel acqua nel quale le idee possono confrontarsi prosperare e far crescere una riflessione io credo che noi abbiamo bisogno di esercitare una riflessione l'uso della dell'intelligenza e dell'analisi per capire esattamente dobbiamo anche in un momento di profonda disinformazia come la chiamano in russia cominciare a capire come si leggono le notizie per esempio e questo lo puoi fare se sai leggere ma sai leggere non vuol dire che sai leggere l'alfabeto sai leggere vuol dire che sei leggere tra le righe dietro le quinte